ciao a tutti allora oggi da come avete letto dal titolo vedrete uno scontro tra secret girl mia moglie e keko kraft lo stesso keko kraft ha voluto sfidare lei a due partite standoff per stabilire chi fosse il più forte bene le due partite non sono stato semplici sono durate tanto e ve le ho ridotte riassumendo così le migliori giocate di secret girl comunque volete sapere chi ha vinto come andato a finire bene seguite tutto il video e mi raccomando lasciate un mi piace un mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto condividetelo sulle baccheche dei vostri social e ci vediamo con il prossimo video che sia una giocata o un prova di un prodotto tecnologico ciao e a presto a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.